Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, è finalmente uscito l'update 1.7 di PS4, un aggiornamento attesissimo che ha un po' rivoluzionato la console. Era un aggiornamento molto atteso perché doveva portare innovazioni molto importanti per il sistema, tante anche chieste a gran voce dai giocatori in questi mesi, quindi è stato anche ascoltato il feedback dei giocatori. Quindi anche altre cose sono state aggiunte che non erano state richieste ma che sono altrettanto importanti e poi sono state aggiunte anche delle cosettine così a margine abbastanza inutili. In questo video vi farò vedere appunto un po' tutte le novità di questo aggiornamento, così magari da rendermi anche utile a chi magari non segue particolarmente i siti, non è particolarmente informato su cosa è in grado di fare adesso dopo quest'update della console. Partiamo dalla novità più rilevante, quella che forse interessa più persone, soprattutto noi youtuber che magari facciamo video, gameplay eccetera, ovvero la possibilità di acquisire tramite scheda d'acquisizione perché è stato rimosso il blocco HDCP. Cioè quel blocco che appunto impediva di usare scheda d'acquisizione per acquisire gameplay. Va detto che l'aggiornamento non rimuove in automatico il blocco, quindi non pensate che dopo aver fatto l'aggiornamento avrete automaticamente tolto il blocco e potrete registrare perché così non è. L'aggiornamento semplicemente introduce la possibilità di sbloccare la console, quindi di togliere il blocco e dovrete farlo manualmente come? Andando qui in impostazioni, vi spostate in basso su impostazioni di sistema e vedete che qui c'è abilità HDCP. Questa opzione è stata appena introdotta con l'aggiornamento, di standard è spuntata, quindi voi troverete la spunta, dovete toglierla. Togliendo la spunta, questa opzione, toglierete il blocco e potrete tranquillamente registrare i vostri gameplay, le vostre appunto scene da PS4. L'ho provato, anzi lo sto facendo anche in questo momento, questo stesso video è registrato direttamente tramite il gato senza passare allo splitter, quindi questa cosa è stata finalmente sistemata. Poi è stato introdotto il pre-download automatico. Cosa significa? Allora, questa è una cosa che riguarda il PlayStation Store, infatti chi preordina giochi in digitale dal PlayStation Store potrà scaricarli già alcuni giorni prima della data d'uscita. Questo a cosa serve? Se un gioco pesa 20 GB, è chiaro che se il gioco è disponibile dal 1 gennaio e voi mi mettete a scaricare a mezzanotte del 1 gennaio, probabilmente riuscirete a giocare, se va bene, entro la sera del 1 gennaio, se non addirittura il giorno dopo, proprio perché avete tanti GB da scaricare. Il pre-download vi consente, magari già da 1 o 2 giorni prima, di intanto scaricare ed installare il gioco, che poi rimarrà bloccato, quindi non potrete comunque giocarci fino al day 1, ma dalla mezzanotte del day 1, quindi da mezzanotte e un minuto, potrete cominciare a giocare avendolo già scaricato ed installato, quindi non perdete tempo in pratica, lo scaricate prima così da mezzanotte cominciate a giocare. È una cosa molto utile per chi magari è solito fare preordini dal PlayStation Store, io personalmente non l'ho mai fatto e mai li farò perché in digitale non compro, soprattutto al day 1, cioè in digitale compro se costa poco, ma i giochi al day 1 non li comprerò mai in digitale, quindi è una cosa che non mi riguarda, però magari per chi è solito fare acquisti dallo store è una cosa molto utile. Poi, altra cosa legata sempre al blocco HDCP che dà in là tutta una serie di cose che si possono fare, è la Share Factory. Stavolta ve la accendo soltanto questa funzionalità qui perché farò un video dedicato e vi spiego perché. Già questo video sarà un po' lungo perché ci sono tante le cose da dire. La Share Factory richiede un po' di approfondimento, cioè tanto da dire, tanto da spiegare e anche tanto per me da apprendere, quindi farò un video dedicato e per non allungare questo video e perché ancora devo impradichirmi. Per chi non sapesse cos'è, è un vero e proprio programma di video editing, è un'applicazione, anche questa non si scarica in automatico con l'aggiornamento, ma l'aggiornamento vi introduce semplicemente quest'icona qui nello stream. Voi cliccate sull'icona e vi parte il download dell'applicazione che pesa circa un gigabyte. Ripeto, è un vero e proprio programma di video editing, l'ho provato un pochino, oggi ho fatto un po' di montaggi così del tutto sgangherati perché ancora devo imparare ad usarlo. Ripeto, è una cosa un po' complessa, nel senso che è molto profonda, è un vero e proprio programma, potete applicare effetti, transizioni, fare tagli, mettere addirittura il commento, sopra il commentary, addirittura con la facecam tramite le PS camera. Si possono fare veramente una marea di cose, è molto molto carino e interessante. E funziona tutto su PS4 ovviamente, quindi potrete prendere le clip che avete registrato tramite il tasto share e appunto metterle insieme, mescolarle e fare un po' di cose per fare dei video carini. Però ripeto, siccome ci sarebbero tante cose da vedere all'interno di questa applicazione e comunque io stesso ci devo un po' perdere tempo per impratichirmi, perché ripeto, è un vero e proprio programma di video editing come quelli del computer, quindi bisogna un attimo imparare a conoscerlo e ad usarlo. Su questo farò un video magari più avanti, un video dedicato in cui vi mostro tutte le funzionalità magari, non so, settimana prossima, tra qualche giorno vedremo quando imparo bene ad usarlo e ne parleremo poi con calma. Però sappiate che è stata aggiunta anche questa, che è una delle aggiunte più importanti di questo nuovo aggiornamento soprattutto per gli amanti appunto del video editing, chi ama fare le clip delle proprie partite. Poi, detto questo, aspettate che mi aiuto anche un po' con l'elenco puntato presente sul blog della PlayStation perché altrimenti non mi ricorderò mai tutte le novità. Ecco, altra cosa molto importante, sempre legata allo sblocco dell'HDCP, è la possibilità di esportare le clip registrate grazie al tasto Share e gli screenshot, esportarli su chiavetta USB, quindi voi collegando una chiavetta USB potete spostare su chiavetta e quindi su computer i video che registrate col tasto Share. Come? Lo si può fare o attraverso Share Factory, e anche questo lo vedremo nel video dedicato, o semplicemente tramite questa opzione qui, Galleria Catture. Tra l'altro, ecco un'altra cosa, questa credo sia un'aggiunta dell'ultimo aggiornamento, questa Galleria Catture, se non sbaglio. Forse potrei anche sbagliarmi, ma io l'ho notata soltanto ora, quindi casomai se sbaglio mi correggerete. Prima per andare a vedere le catture, quindi gli screenshot ai video, bisogna andare sul profilo, entrare appunto nelle catture e da lì trovate tutte le vostre catture. Ora l'opzione Galleria Catture è presente nello stream principale, quindi dove sono anche tutti i giochi e le applicazioni. La trovate qui. Io ripeto, forse c'era già prima, io ne sono accorto soltanto ora, comunque tant'è. Bene, accedete qui a Galleria Catture e trovate tutti i video e screenshot che avete fatto. Stavamo parlando della possibilità di esportarli su chiavetta USB, come? Prendiamo ad esempio una clip video di FIFA 14, tipo questa qua. L'ho fatta partire, ho sbagliato. La selezioniamo, ci andiamo sopra quindi, premiamo il tasto Options e vedete che nell'elenco compare Copia nel dispositivo di archivazione USB. Selezioniamo, qui ci fa scegliere quali video vogliamo copiare, adesso seleziono solo questo, e poi facciamo Copia. Ora ci avverte qui che sta creando la cartella apposita dove andranno a finire tutti i video che spostiamo sulla cartella. Quindi facciamo OK. E niente, parte la copia, semplicemente sta esportando il video sulla chiavetta. Adesso per annullo, se no ci mettiamo 3 minuti inutilmente. E poi da lì potete spostarli sul computer se volete appunto elaborarli al computer. Stessa cosa ovviamente per le istantanee, quindi per gli screenshots. Funziona alla stessa identica maniera. E anche questa è una funzionalità molto richiesta, molto utile e molto comoda, devo dire. Poi, altra cosa molto importante, questa è stata un po' più insordina, che a me interessa già un po' di più, è la possibilità di streamare in HD. E non è questa la cosa che mi importa tanto, eh. Vi sto citando che è stata aggiunta anche la possibilità di streamare in HD. Quindi a 720p, cosa che, ripeto, a me non cambia tanto, perché io non ci arriverò mai con la mia connessione a streamare a quelle quali da lì. Ma una cosa che riguarda sempre Twitch, che è stata aggiunta, è finalmente la possibilità di archiviare i video, i propri streaming, sul canale Twitch. Cosa significa? Significa che, prima ve l'avevo anche accennato durante qualche streaming, che quando io streamavo da PS4, purtroppo, la replica dello streaming non rimaneva salvata sull'account Twitch, quindi non poteva neanche essere esportata magari su YouTube. Non c'era la possibilità di vederla, cioè, lo streaming finiva e il video andava perso. Mentre invece adesso, quando finisce uno streaming fatto da PS4, questo rimane salvato e visibile anche indifferita sul canale Twitch. E da lì poi posso anche esportarlo su YouTube, è una cosa molto comoda, appunto. E' una cosa che mi interessava parecchio. Intanto ho attivato FIFA per farvi vedere un attimino come funziona sta cosa. E' una cosa che mi interessava parecchio, perché? Perché io avevo intenzione di fare delle serie da PS4, su alcuni giochi che adesso non vi sto a dire, serie da fare in streaming e poi da caricare anche sul canale YouTube. In modo che chi io voleva eseguire i streaming li eseguiva in diretta, chi io voleva eseguire dopo li eseguiva sul canale, semplicemente. Non l'ho mai fatto proprio perché non c'era la possibilità di salvare gli streaming che venivano fatti da PS4. Ora che c'è questa possibilità, posso anche dare il via a queste serie, a cui adesso devo un attimo organizzarmi, un attimo pensarci bene, ma anche di questo vi parlerò a tempo debito, adesso non è il momento. Comunque sappiate che arriveranno anche queste cose. Dicevo, qui si va su Twitch, prendete il tasso share, andate su inizio di trasmissione, selezionate Twitch o Ustream, penso vada bene uguale, penso sia la stessa cosa. E su qualità, prima si fermava a massima, adesso è stata aggiunta a massima HD. Quindi, semplicemente, appunto per stimare in HD come vi dicevo. Poi, altra novità, altre aggiunte sono state appunto, vi leggo testuale proprio come compare qua sul sito, nuove opzioni condividi che consentono di cambiare il tempo predefinito di registrazione, io sta cosa non l'ho trovata, salvare soltanto alcune clip video e istantanee delle schermate, selezionare destinatari specifici su Facebook con cui condividere i materiali. Ora, questo punto qui è un po' nebuloso, si capisce veramente poco. Io mi sono accorto, anche questo non mi sembra che prima ci fosse, che premendo il tasto share, vedete che in basso, nella leggenda compare salva istantanea della schermata, ha accoppiato il tasto triangolo e ha accoppiato al quadrato invece c'è salva clip video. Quindi, da questa schermata io premendo, ad esempio, triangolo, salvo la schermata, lo screenshot, vedete. Anche questa, insomma, è una cosa un po' marginale, rende un po' più comodo l'utilizzo del tasto share, ma poca roba. Per quanto riguarda Facebook, invece, ho notato che si possono effettivamente scegliere le persone a cui indirizzare il contenuto. Cioè, volete pubblicare una cosa e farla vedere, che ne so, solo a determinate persone, potete farlo adesso. Però, anche queste sono cose, insomma, che ci interessano il giusto. L'altra cosa, un altro dei punti più importanti di questo aggiornamento, più importanti, in realtà, neanche tanto, è una cosa che ha chiesto a grandissima voce dall'utenza, che era la possibilità di abbassare la luminosità della light bar sul DualShock 4, del LED che sta solo al DualShock 4. Allora, chi si intende un minimo, un minimo, un minimo di LED, sa già che il LED consuma veramente una miseria d'energia. E quindi, è vero che il DualShock 4 ha problemi di durata della batteria, ma questi problemi non dipendono assolutamente dal LED. Quindi, probabilmente, gli sviluppatori sapevano che, chiaramente, questi problemi non dipendono dal LED. Hanno voluto dare un po' un contentino ai giocatori che chiedevano questa cosa. E vi faccio vedere perché. Allora, noi, da questa schermata, teniamo premuto il tasto PS, andiamo su Regola Dispositivi, e vedete che c'è questa opzione qui, che prima non c'era. Luminosità della barra luminosa di DualShock 4. Abbiamo tre intensità, cioè quella intensa, che era quella standard, quella che c'era prima. C'è, appunto, vedete, quella media e quella tenue. Ora, io, intanto che parlo, vi metterò un video dimostrativo che ho girato a parte, che vi mostra che, in realtà, la differenza è minima, quasi impercettibile. Cioè, tra tenue e intensa c'è pochissima differenza. Anche quando la luce è tenue, in realtà, è accesa praticamente alla stessa maniera, non cambia quasi di una virgola. Quindi è proprio un contentino, secondo me, che Sony ha dato all'utenza, che chiedeva a gran voce questa cosa, che effettivamente era molto inutile. Cioè, o la fai spegnere del tutto, oppure che me la attenui di 0,0001, non serve a nulla. Quindi, vabbè, questa è una cosa che lascia un po' il tempo che trova. Ma, secondo me, il cambiamento più rilevante per il caro vecchio DualShock 4 è un altro, ovvero la possibilità di, come si dice, di utilizzare, ecco, il touchpad e, o i sensori di movimento, per scrivere i messaggi dal PSN. Cosa significa? Io adesso vado in, che non so, nei messaggi, no? Vado a scrivere un messaggio. Poi prendiamo questo e rispondiamo. Ecco, vedete che prima, per scrivere dovevo muovermi con le freccette, no? Così, scorre di lettera in lettera è una cosa macchinosa e fastidiosissima. Ora, si può usare il touchpad, vedete? Adesso sto usando il touchpad, come fosse un mouse, e le lettere che voglio selezionare mi ci fermo sopra e clicco il touchpad, se voglio scrivere ciao, per esempio. È una cosa che all'inizio può sembrare un po' scomoda, perché è molto sensibile, però se ci fate la mano vi assicuro che è molto molto comodo, molto più dello scorrere lettera per lettera con le freccette, è veramente molto comoda sta cosa. E non solo, oltre al touchpad c'è anche la possibilità di utilizzare il sensore di movimento, il cosiddetto 6-axis, ora vi faccio vedere, premendo R3 qui, dov'è? Aspettate, va? Ecco, premendo R3, adesso l'ho attivato, sto muovendo, ora voi non lo vedete ovviamente, ma io sto muovendo il cursore semplicemente spostando, inclinando il controller a destra, a sinistra, avanti e indietro. Questa è una cosa scomodissima, devo dire. È una cosa veramente scomoda, o ci si fa veramente tanto la mano o poi diventa molto scomodo. Molto più comodo invece adesso che sto usando il touchpad. Questa è una cosa molto comoda, secondo me. Velocizza di molto la scrittura dei messaggi. Ecco, a patto di prenderci un pochino la mano è una roba veramente di 10 minuti. Poi, altre novità, vediamo un attimo. Ecco, è stata anche potenziata la funzione amici, quindi la possibilità di trovare amici. In che modo? In un modo simile a quello di Facebook, ovvero si possono vedere gli amici degli amici e si possono vedere le persone con cui si hanno amici in comune. Esattamente come funziona Facebook. Questa è una cosa che a me interessa proprio zero, perché tanto non è che va a cercarmi gli amici su PSN. Penso anche voi, insomma. Quindi non credo che sia una cosa che verrà particolarmente utilizzata, però sempre una cosa in più. Quindi prendiamo un atto. Altra opzione abbastanza marginale riguarda i trofei, ovvero è stata introdotta la possibilità di cambiare l'ordine di visualizzazione dei trofei di un determinato gioco. Ad esempio, prendiamo Metal Gear Solid Peace Walkable, il primo. Ora, vedete che sono nell'ordine classico, canonico, insomma, quello standard. Premendo il tasto Options, c'è Ordina per e fate Rarità. Quindi è stata introdotta la possibilità di ordinare i trofei di un determinato gioco secondo la rarità. Se qualcuno vuole vedere al volo quali sono i trofei più rari di quel determinato gioco, può farlo in questo modo, molto semplicemente. Lì ordina per rarità, vedete? Il primo è il platino, 1,8%, poi tutte le missioni extra, 2,6% e così via. Una cosa così in più, anche questa, carina, ma nulla di che. Poi, qui sempre dal blog Lego, è stato introdotto anche il supporto transazioni PlayStation Store per metodi di pagamento alternativi. Quindi si può pagare anche con metodi di pagamento alternativi su PlayStation Store, per gli acquisti fatti sullo Store. Anche se non so, francamente, quali sono questi metodi alternativi, non mi interessa. E poi, ecco, qui dice, nuovi comandi PlayStation Camera, che ampliano i comandi vocali con la telecamera. Io nuovi comandi vocali non ne ho trovati, però devo dire una cosa, io era tanto che non usavo i comandi vocali, non li ho quasi mai usati, al tranne i primissimi tempi. Quindi, l'unica cosa che mi sembra non ci fosse, ma anche qui potrei sbagliarmi, chiedo a voi, se mi sbaglio, correggetemi, era che non si potevano fare, mi sembra prima, gli screenshot con la voce. Adesso si possono fare, ora ve lo mostro un attimino. Dunque, se l'ho attivata la telecamera, era un po'. PlayStation. PlayStation. Sì, ok. Quindi, se io entro nel gioco, faccio PlayStation. Scatta istantanea della schermata. Eccolo lì, mi ha fatto lo screenshot, vedete? Questa è una cosa, dico, comoda neanche tanto, perché se ti serve proprio l'attimo da screenshotare è un po' macchinosa come cosa, però è stata aggiunta, non so se è stata aggiunta con questo aggiornamento, io non me la ricordavo prima, magari c'era anche prima. Altri comandi vocali nuovi, io francamente non ne ho visti. Certo, c'è la possibilità ovviamente di chiamare tutte le applicazioni a voce, come è sempre accaduto, ad esempio, posso chiamare anche la Share Factory a voce, tipo io sto su Killzone e faccio PlayStation. Share Factory. E mi va su Share Factory, vedete? Oppure faccio, non so, PlayStation, FIFA 14. E mi va su FIFA, insomma, così via, ovviamente vale per tutti i giochi, posso chiamare tutti i giochi in questo modo. E vabbè, queste sono cose che comunque si facevano anche prima, non è la novità di questo aggiornamento. Se ci sono comandi vocali nuovi io non li ho trovati ancora. E poi niente, qua dice anche che è stato aggiornato il collegamento tra PS4 e PS Vita in concomitanza con il firmware 3.15 di Vita, che consente una connessione più facile e migliorata tra le due console. E poi, ultima cosa, le notifiche push, richieste amico e avvisi per PlayStation App. Cosa, PlayStation App io non l'ho mai scaricata, mai utilizzata, quindi non so neanche di che si parla. Quindi, boh, però ve la cito perché qui è riportata. Più o meno le novità di questo update erano queste, molto molto interessanti, in realtà Sony ha fatto veramente le cose per bene, un aggiornamento ottimo. Ovviamente non l'ho detto all'inizio ma è scontato e banale, l'aggiornamento parte in automatico quando attivate la console. Se per qualche motivo non vi parte in automatico, per scaricarlo andate su impostazioni e c'è aggiornamento software di sistema. E parte l'aggiornamento, molto semplice. Inutile dire che bisogna essere connessi a internet, inutile dire, lo dico proprio per chi non è pratico, che l'aggiornamento è gratuito. Ovviamente, non bisogna sborsare un centesimo. Si fa semplicemente basta la connessione a internet, accendete la play e parte. Quindi, io devo dire che sono molto 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 soddisfatto di questo aggiornamento. Direi che è stato aggiunto tutto quello che la community chiedeva e anche qualcosina in più. Sicuramente c'è anche tanto ancora da lavorare, altri aggiornamenti arriveranno anche importanti, spero. Ma c'è tempo, per ora direi che possiamo dirci soddisfatti del supporto che Sony ci sta dando da questo punto di vista. Almeno io lo sono molto. Però vorrei anche sapere un po' la vostra, la vostra opinione riguardo a questo aggiornamento, se siete contenti, se vorreste ancora qualcosa e eventualmente che cosa. Quindi, sono molto curioso di leggere poi la vostra nei commenti. Vi ricordo appunto che poi faremo anche un video dedicato a ShareFactory tra qualche giorno. Vi ringrazio di aver seguito questo video, lasciate un like se vi è piaciuto. Se magari è tornato utile a qualcuno che aveva qualche dubbio o voleva sapere cosa effettivamente portava di nuovo questo update. E niente, è veramente tutto. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo con i prossimi video. Ciao ciao!